Lunedì 14 agosto e martedì 15 agosto doppia apertura straordinaria per musei, aree archeologiche e luoghi della cultura statale in tutta Italia per un lungo ponte all'insegna della cultura. Oltre all'apertura prevista per Ferragosto, quest'anno il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo apre le porte ai visitatori anche lunedì 14, dunque consueto giorno di chiusura per gran parte dei luoghi della cultura nazionale. A Campobasso ha aperto il Museo Sannitico in entrambi i giorni dalle 9.30 alle 19 e Palazzo Pistilli dalle 8 alle 19. Il Castello di Civita Campomarano aperto solo a Ferragosto dalle 10 alle 19. Possibile visitare il 14 e 15 agosto il Castello di Gambatesa con i suoi pregevoli affreschi dalle 8 alle 19, così come l'Anfiteatro Romano a Larino dalle 8.30 alle 13.30. A Sepino poi porte aperte in entrambi i giorni al Museo della Città e del Territorio dalle 9.30 alle 19 e all'area archeologica dalle 9 alle 18. A Castel San Vincenzo visitabile il 14 e 15 agosto il complesso monumentale dalle 8 alle 19. A Isernia invece ha aperto il Museo archeologico di Santa Maria delle Monache dalle 8.15 alle 13.45 e il Museo del Paleolitico dalle 8 alle 19. Il 14 e a Ferragosto visite consentite nell'area archeologica del Santuario Italico e del Teatro Sannitico a Pietrabbondante dalle 10 alle 19. Infine a Venafro porte aperte lunedì e martedì al Museo archeologico e al Museo Nazionale di Castello Pandone dalle 8 alle 19.